Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Simone e oggi siamo qui per giocare a... Non è un gioco però vabbè, siamo qui per fare una tabella su un nuovo anime che porta sul canale Si chiama One Punch Man Fatemi sapere se vi piace questo tipo di video E ovviamente lasciate like, condividetelo ai vostri amici E attivate la campanella per ricevere altri tipi di video del genere Come magari li posso fare su Rainbow E su tutti gli altri cose Se vi piace questo anime scrivetemi qua sotto nei commenti Portalo, così almeno io poi porto il gameplay Non sulla Playstation, ovviamente porto il gameplay dal telefono E magari posso farvi, tipo Dragon Ball Legends Posso fare spacchettamenti, battaglie Insomma, posso farvi vedere quello che volete Fatemi sapere quindi se il video vi piace E come vi ho detto scrivete nei commenti Portalo con punto esclamativo Hashtag portalo punto esclamativo Per farmi capire che volete che lo porto E quindi niente, poi il prossimo episodio lo porterò E ragazzi scrivetemi anche se volete Il... Sempre una tabella però su Rainbow Quindi gli operatori per me preferiti di Rainbow Li metterò nella tabella E scelgo le classi, le varie classi E quindi questo, vi volevo dire solamente questo E vi dico solamente che questa tabella è per me ragazzi Questa tabella è solo per me Non è presa dall'anime vera Quindi questa tabella è per me Nel senso che questa tabella è per la mia testa Queste cose sono quelle che piacciono a me Non è che sono andato a informarmi Le persone, i personaggi che mi piacciono Li metto nelle varie caselle Non è che le ho cercate Quali sono i migliori Quindi possiamo iniziare Non prendiamo tempo No poi il video dura troppo E non è bello Come vedete Vi dico solamente che Questo contiene un sacco di spoiler Quindi attenzione Perché se non vi siete visti la prima stagione O la seconda Mi raccomando Vedetevela e chiudete il video Perché contiene tanti dei spoiler Quindi Vi dico solamente che In questa tabella Come nell'anime Ci sono le classi Classe AS Classe AB CD Visto che non poteva allungare Ho messo sotto classe D Quindi non perdiamo tempo Iniziamo ragazzi Allora Abbiamo il Questo che non mi ricordo il nome Io Allora Quanto ne so Non si merita molto Non è molto forte Quindi io Al massimo Lo metto Nella classe D Non mi è mai piaciuto Sinceramente Abbiamo il biciclettaro Chiamiamolo così Lui Lui neanche Mi è mai piaciuto Quindi Al massimo Il biciclettaro Lo posso mettere Nella classe C Non di più Oh Lui 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 è bello Bello cazzuto Lui fa Ying Yang Con le mani È un cinesino Tattico E non è neanche Troppo scarso Quindi al massimo Gli do un B Ragazzi B È più che meritato Per lui Attenzione Metal Knight Metal Knight Ha partecipato Alla 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 Difesa Del meteorite Che sta per colpire la terra Insieme a A Saitama E Saitama il maestro Lui E vabbè Ovviamente Genos Quindi Questo Non è malissimo Però si è visto poche volte Nella prima stagione Quindi Al massimo Gli do un Classe B Non altro Poi Subito dopo Ragazzi Abbiamo U Il Detenuto Ragazzi Lui Ogni volta che si incazza Scusatemi il termine Ogni volta che si arrabbia Meglio Se no le persone più criticano Sto scherzando Quando lui si arrabbia Praticamente Si stacca La La tuta Praticamente Come posso dire Tutto nudo E diventa molto più Cazzuto Però Non ha mai Cioè Tutte le volte che ha partecipato Ha sempre perso Quindi Gli posso dare Un classe C Niente di più Abbiamo Il samurai Ragazzi Il samurai è molto forte Considerando che Ha sempre combattuto Contro Saitama Però ovviamente Ha sempre perso Perché Come fa a battere Saitama E gli do un Classe B Ragazzi Niente male Subito dopo Abbiamo il bamboccio Questo messo Proprio sulle Ma proprio È bruttissimo Mi dà fastidissimo Questo che è pure Scarso E secondo me Nel film Nell'anime È classe S Ma non se lo merita Gli posso dare Io Per me Gli do Un Classe D Sta proprio sui Saitama Saitama Ragazzi Non c'è Bisogno neanche Che parlo Saitama S Ovviamente È il Protagonista Il più forte Subito dopo Abbiamo Borus Di una cosa del genere Lui è L'ultimo Il boss Finale Della prima stagione Che se non fosse Che Saitama Era Invincibile A quest'ora Lui aveva battuto Lui è un Classe S Assicurato Ragazzi Subito dopo Abbiamo Attenzione Ragazzi Abbiamo Il penultimo Boss Della prima stagione Quello marino Che Ha distrutto Tutti Ovviamente Saitama E gli altri Lui Secondo me Si merita Una classe A Ragazzi Bello Forte Bello Forte 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 Niente da dire È forte Subito dopo Ragazzi Genos Genos Senza pensarci Un classe A Niente da dire Ovviamente Il maestro No Si chiama questo Non mi ricordo il nome Lui è sempre stato forte Ma non ha mai Spaccato duro Anche se È forticello Dai Lo faccio Non me ne pento Classe A A go go E ultimo Non per Scarsezza Abbiamo il maestro Ci chiamava tipo Una cosa del genere Lui si merita Secondo me Fammi pensare Lui è bello forte Bello forte Secondo me Lui si merita Un classe B Bah Adesso andiamo a modificare Un pochino Lui Non se lo merita O ci ho pensato sopra E lui si merita Un sotto classe D Perché lui è bravo solamente Con la bicicletta Non è mai servito a niente Il bamboccio Secondo me Va messo Nella classe C È bello forte E non gli puoi di niente È il Invece Metal Knight Lo posso mettere Nella classe C Ragazzi È stato utile Ma non tanto Quando Saitama Ovviamente Cos'altro Lui Secondo me Non è a livello Quindi Lui va messo In classe A E lui In classe B Secondo me È questo Cos'altro Il detenuto In classe In classe C Non lo vedo proprio Lui si merita Un classe D Ragazzi Cioè Alla fine Non ha mai concluso niente Sinceramente Ragazzi Cos'altro Cos'altro Potremmo cambiare Secondo me Sei cosa Secondo me Secondo me Lui Lui Si merita Un Lui Eccolo Prendiamolo Lui Il Cosa Come si chiama Il bamboccio Mi sta Tanto Ma tanto Sui Honest Si merita Un classe D Ragazzi L'ho fatto Non me ne sono pentito Non se lo meritava Per me Quindi Questa È la classifica finale Spero che il video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un like Condividetelo Ad altre persone In modo che Capiscono Quanto sono bravo A registrare Che sto scherzando E vi ringrazio Per aver visto Questo video Con le tabelle Quindi come vi ho già detto Scrivetemi qua sotto Nei commenti Se vi va bene Perché porto Un altro episodio Però sul rainbow Sul tabellone Ovviamente Volete anche Il gioco Di 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 One Punch Man Fatemi sapere E niente Ci vediamo Nel prossimo video Bella Ciao 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 Grazie.